n ciao ragazzi sono sempre io e siamo di nuovo in compagnia di Warrior un classico jam warrior che ormai è da secoli che faccio do bisogno di presentazioni perchè ormai faccio solo commentare con lui in italiano sperano che qualche italiano lo veda e non sono stranieri ma sinceramente un pochettariano l'ho preso comunque nel commento si si vabbè gli italiani nuovi che sono venuti attraverso steam su rc in questo fantastico divino si si fantastico tra virgolette guarda qui guarda lì ho ovvio anche camper non ma non ci posso creare guarda guarda perché il team blu extra svantaggiato perché la subito qua eh ma guarda c'è un muro what's on ma si guarda Alex come cazzo camper mamma si ok ce lo vedo dove 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 ti a buttare insomma con il laser ah no eccolo la mi ha sparito ok per i nuovi giocatori non comprate mai il laser se la comprate vi faccio bannare tutti mi ha appena ucciso nel laser bastarda non è possibile e dai mori si perchè quest'arma sono una nerf ma giuro che mamma mia ehm da quanti mesi che era eh da tanto eh ancora da rc cazzo fa questo gol guardali ma la cosa è ma quando c'è molto ma lol spawn killing not allowed c'è un'arma che posso consigliare proprio la grosso che è ma ma è una vergogna guarda 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 quella come guarda 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 là dietro ma ma guarda persino ho persino i bug nella mano non ci credo troppo la mufa perchè nei quanti quelli dell'ecchietto e' moro a marchi paio chi cazzo per lo succeso foto foto ma non ci posso si va bene perché io ovviamente dallo loro non posso spalla sparare però loro possono uccidere molto giusto molto coerente come questo giochiamo con una vecchia fiamma qui non si può vedere sta cazzo di cosa dello spawn io voglio quello di rc2 mannaggia ma si ma se no noi non li possiamo uccidere neanche loro possono uccidere se no loro uno rimane campionato lì immortale però non ucciderà tutti quelli che vengono e se fatti credo non è giusto no e poi sono solo camera giustizio ora mi sento il senso la prima alex inform oh mannaggia quanti sono qui ti aspetta ti aspetta ma scendo guarda guarda si mettono vicino allo spawn stanno immobili e ti aspettano perchè sanno che mettono li puoi uccidere blaze salutiamo no no ecco porca pittana lo sapevo anzi no saluto saluto giustizio e saluto percorso la gente sono c'è accetta amicizia ripetere io ho 250 amici non posso cercare nessuno non posso cercare che lag adesso faccio un invad che lag guarda in quanti sono ok dai vabbè finiamo questo video qua ci vediamo tutti in un prossimo video ciao ciao da agenti alex e da warrior e da jailwater